coronavirus una settantina le persone in isolamento sale il numero dei casi tenuti sotto controllo sono i cittadini che arrivano dalle zone dei contagi sugli agenti in quarantena valutazioni in corso rafforzati i controlli al tribunale di isernia all'asrem arriva il nuovo direttore generale trasporto pubblico il movimento 5 stelle chiede le dimissioni di niro dopo la bocciatura della legge da parte del consiglio dei ministri si riapre la polemica gara e lotto unico restano per i pentastellati l'assessore deve lasciare raddoppio ferroviario bagarre in consiglio a termoli slitta il dibattito sulla termoli lesina l'opposizione per protesta ha abbandonato la seduta consigliare carnevale allarino sfilata nel fine settimana sabato e domenica tornano in piazza gli otto carri allegorici per un appuntamento che richiama sempre più turisti basket femminile si gioca a moncalieri confermata la final eight di a2 la molisana il 6 marzo impegnata nella prima sfida contro il carugate in serie di oltre 400 biglietti già venduti per il derby saluto a tutti voi buon pomeriggio dalla redazione dunque anche questa edizione il nostro telegiornale si apre con gli aggiornamenti sul coronavirus lo avete visto dai titoli di copertina sono una settantina sono saliti a una settantina i casi tenuti sotto controllo dall'asrem persone in isolamento molte hanno chiesto l'isolamento volontario si tratta soprattutto di cittadini che rientrano dalle zone dove sono stati conclamati i focolai del virus soprattutto dal nord italia c'è ancora da valutare la posizione degli agenti di polizia arrivati da piacenza si sta studiando il da farsi e tra l'altro questo è l'ultimo giorno di virginia scafarto come commissario asrem e in serata arriverà il direttore nuovo direttore generale florenzano intanto tutti gli aggiornamenti nel servizio di enzo luongo il molise resta tra le regioni senza casi di coronavirus zero casi accertati e in questo momento zero casi sospetti è cresciuto invece nelle ultime ore il numero delle persone sotto osservazione erano 55 due giorni fa ora sono diventate una settantina qualche novità anche sui 190 allievi della scuola di polizia arrivati nei giorni scorsi da piacenza a campo basso e ora tutti in quarantena le autorità sanitarie locali stanno valutando i singoli casi per stabilire la durata del periodo di isolamento e una decisione potrebbe essere presa nelle prossime ore lo riferisce il commissario dell'asrem maria virginia scafarto nel suo ultimo giorno di lavoro almeno con questo incarico in via petrella domattina infatti è previsto l'insediamento del nuovo direttore generale oreste florenzano in questi giorni ha già partecipato ad incontri e riunioni sull'emergenza e in queste ore il neo direttore incontra anche la scafarto per il passaggio delle consegne da domani infatti toccherà a lui gestire la complicata macchina sanitaria molisana e con essa l'emergenza coronavirus a livello locale sulla gestione dell'emergenza è intervenuto anche il ministro per gli affari regionali boccia che ha elogiato il lavoro delle regioni e dei sindaci ha rimarcato il fatto che il fenomeno è stato circoscritto ad alcune aree che sono costantemente a detto sotto controllo sentiamo non si parla di intere regioni ma di province o addirittura comuni che abbiamo al momento circoscritto il ministro per gli affari regionali e per le autonomie francesco boccia è intervenuto sull'emergenza coronavirus rimarcando che da parte delle regioni c'è stato un lavoro straordinario avvenuto peraltro sotto pressione e ha voluto specificare che nelle zone dove si sono registrati dei picchi dell'epidemia definite cluster il fenomeno è sotto controllo ed è costantemente monitorato i sindaci e i presidenti di regione ha spiegato boccia stanno facendo un lavoro rigoroso raccordandosi costantemente con il tavolo di coordinamento nazionale istituito alla protezione civile il ministro per gli affari regionali ha poi annunciato che anche tutte le regioni no cluster le zone cioè dove non si sono verificati picchi delle infezioni o addirittura non ci sono casi conclamati hanno firmato l'ordinanza tipo messa a punto dal governo in raccordo con la conferenza delle regioni l'istituto superiore di sanità e la protezione civile per coordinare le azioni nei territori che sono al di fuori dell'area di contagio anche il molise ha seguito il protocollo con la nuova ordinanza emanata dal presidente toma l'auspicio ha dichiarato il ministro boccia e che a partire dal 2 marzo anche le altre regioni del nord senza aree cluster possano aderire all'ordinanza condivisa che garantisce sicurezza contenimento del contagio e l'immediata ripartenza per ogni attività in via parigi sede della conferenza delle regioni i presidenti delle regioni dove non si sono verificati casi di infezioni sperano di poter rendere meno rigorose le misure di contenimento e sull'emergenza interviene anche la federazione delle agenzie di viaggio della confesa ercenti e che concorda con i propositi e le misure proposte per risolvere la crisi delle imprese del turismo riguardo agli sforzi del governo regionale per dare impulso e risorse al settore del turismo il turismo in entrata hanno spiegato i vertici di asso viaggi potrebbero essere vani considerata l'emergenza del coronavirus non consentendo la realizzazione degli obiettivi che sono stati fissati per questo motivo asso viaggi per garantire una tutela al comparto e scongiurare la crisi chiede a tutti gli operatori turistici ai fornitori di servizi integrati e alle istituzioni l'impegno a una più proficua collaborazione controlli rafforzati anche al tribunale di isernia le persone che arrivano dalle altre regioni vengono controllate con un termometro laser alla all'entrata del tribunale il sergio di vincenzo ne ha parlato con il presidente enzo di giacomo la novità non sta di certo passando inosservata al tribunale di isernia le persone provenienti dalle regioni nelle quali è stato riscontrato almeno un caso di coronavirus vengono sottoposte ai controlli con un termometro laser dagli agenti addetti alla vigilanza questa è l'ultima delle misure preventive adottate dalla conferenza permanente del palazzo di giustizia esernino coordinata dal presidente del tribunale enzo di giacomo si andrà avanti così fino a quando non sarà cessata l'emergenza tutti coloro i quali provengono da regioni nelle quali è stato riscontrato almeno un caso di coronavirus oppure anche in residenti o dimoranti nelle nostre zone che però negli ultimi 14 giorni abbiano transitato soggiornato in quelle regioni debbano essere sottoposti a controllo il controllo viene effettuato da un agente della vigilanza con apposita maschera con un termometro laser ad infrarossi che in due tre secondi a distanza misura la temperatura e qualora il soggetto interessato abbia una temperatura dai 37 gradi in su non potrà accedere al palazzo a tutela di tutti gli altri che lo frequentano in quel caso l'udienza verrà rinviata nei giorni scorsi la conferenza permanente aveva già adottato una serie di misure di prevenzione di carattere igienico sanitario estendendole anche agli uffici del giudice di pace presenti negli altri centri della provincia mentre la proposta di sospendere le udienze così come avvenuto in altre regioni almeno per ora non è stata accolta ci è parsa una misura eccessiva che da noi non avrebbe avuto senso qui in molise fortunatamente non è stato registrato neppure un caso di coronavirus e quindi adottare delle misure così drastiche avrebbe significato diffondere ulteriormente un panico un allarmismo che in questo momento sono ingiustificati la vita qui da noi per fortuna può continuare tranquillamente così come si è fin qui svolta ovviamente se poi si dovessero registrare dei casi beh allora moduleremo le nostre misure ai casi che si dovessero registrare Torna questa sera l'appuntamento con ingresso libero a Telemolise si parlerà proprio di coronavirus in studio ci saranno il presidente della regione Donato Toma il medico di base e infettivologo felice di Donato e il vicepresidente della camera di commercio di Campobasso Liberato Russo l'appuntamento come sempre è in diretta stasera alle 21. Lasciamo la pagina dedicata al virus e alle misure che ne stanno conseguendo e parliamo invece del piano regionale dei trasporti ci occupiamo quindi di politica un caso già scoppiato quando in consiglio regionale la maggioranza ricorderete andò addirittura sotto poi le polemiche ora si riapre il caso dopo la bocciatura della legge regionale da parte del consiglio dei ministri è intervenuto il Movimento 5 Stelle che da Palazzo Daimmo chiede le dimissioni dell'assessore Niro il servizio è di Tonino Danese la notizia dell'impugnativa da parte del consiglio dei ministri della legge regionale in materia di trasporto pubblico locale ha fatto registrare diverse prese di posizione anche i consiglieri 5 Stelle a Palazzo Daimmo hanno attaccato duramente l'assessore Niro accusato di dilettantismo e anche loro ne chiedono le dimissioni il governo ha detto Angelo Primiani ha però confermato la bontà di quanto dicevamo e abbiamo sostenuto riguardo lotto unico e gara lotto unico e gara la sola soluzione ha ribadito Fabio De Chirico a 20 anni di sfacelo del trasporto pubblico locale c'è da dire che il consiglio dei ministri ha confermato la bontà dell'impianto normativo ovvero ha confermato appunto la bontà dell'otto unico della procedura di gara aperta perché le osservazioni non hanno riguardato questi aspetti che poi sono gli aspetti principali della legge approvata dal consiglio regionale ha invece osservato una parte residuale quella che riguardava le tutele dei lavoratori dicendo pressoché che non bisogna inserire in una legge regionale una norma che riguarda la natura privatistica tra le parti ovvero ha detto per quanto riguarda gli aspetti di tutela e garanzia dei lavoratori questo deve essere disciplinato nel contratto tra le due parti e non in una legge regionale quindi di fatto è stata confermata quella che era la nostra linea di cambiamento la riforma del settore non può prescindere dall'otto unico e da una bando di gara a procedura aperta perché questo è l'unico elemento per rendere appetibile la gara anche agli operatori internazionali I 5 Stelle hanno evidenziato anche la situazione del parco rotabile obsoleto servizi carenti a fronte dell'aumento del 40% del prezzo dei biglietti senza mezzi termini il commento di Andrea Greco che ha puntato il dito contro Vincenzo Niro L'unica riflessione che possiamo fare è che Vincenzo Niro ha fallito e che avevamo ragione su tutta la linea ovvero l'otto unico e procedura di gara aperta di rilevanza internazionale questo è l'unico modo per uscire dal pantano in cui il Molise si è andato a cacciare in materia di trasporto pubblico locale i cittadini sono esausti, i lavoratori sono esausti e noi abbiamo chiesto oggi un monotematico sul trasporto pubblico locale e al primo punto ci sarà la richiesta di revoca delle deleghe all'assessore Vincenzo Niro perché non ne possiamo più Restiamo in materia di trasporti ma cambiamo sede Andiamo a Termoli, in Consiglio Comunale c'è stata una seduta molto accesa per via del fatto che bisognava discutere il raddoppio del tratto di ferrovia tra Termoli e Lesina un argomento che invece la maggioranza ha ritenuto di dover far slittare provocando la immediata reazione dell'opposizione che ha lasciato l'aula, il servizio di Fabrizio Occhio Nero Il tema del raddoppio ferroviario tra Termoli e Lesina accende il Consiglio Comunale a inizio di seduta la maggioranza decide in sostanza di non trattare il primo punto dedicato al progetto perché sostiene è stato già affrontato in Consiglio e in Commissione questo solleva le proteste della minoranza che contesta l'atteggiamento dell'amministrazione Roberti e abbandona l'aula Quello che si è verificato oggi nella sala consigliare è purtroppo una triste pagina della politica termolese non ci è stato consentito di discutere una proposta di delibera che tratta un argomento di interesse per l'intera città quello del raddoppio ferroviario nonostante la nostra richiesta fosse stata protocollata ben due mesi fa il 10 dicembre è stato convocato dopo due mesi e dopo essere stato convocato con una semplice pregiudiziale non ci hanno consentito di trattare in aula una tematica importantissima questo non si può accettare A margine del Consiglio il Movimento 5 Stelle ha annunciato anche una trasferta a Roma per incontrare i vertici delle ferrovie Noi riteniamo che la pregiudiziale ci abbia imbavagliato e questo noi non lo possiamo consentire non ci fermiamo, andremo avanti, continueremo la nostra battaglia non è la prima volta che cerca di imbavagliarci con delle pregiudiziali come non è la prima volta che pongono dei veti alle nostre emozioni ritenendole superate quando in realtà non è così I capigruppo di maggioranza hanno poi convocato una conferenza in una pausa del Consiglio per ribadire la correttezza del loro operato respingendo ogni accusa così il sindaco Francesco Roberti Questo è un argomento che si è discusso a dicembre guarda caso il PD probabilmente era impegnato ad altro o a fare altro non è venuto in Consiglio e se è vero che è un argomento che a loro stava tanto a cuore potevano venire in Consiglio in quel Consiglio abbiamo già definito in maniera chiara la stazione di Termini rimane dov'è verrà spostato chiediamo lo spostamento della parte commerciale l'opposizione quindi la parte del PD si continua ancora a sostenere un progetto fantasioso che sbrocca racconta di aver preso degli accordi che non vi è traccia su un interramento della stazione ferroviaria noi non ringorriamo le fantasie Ha lasciato gli arresti domiciliari ed è stato denunciato per evasione dai carabinieri di Campobasso l'uomo era autorizzato a partecipare in tribunale alle udienze di un processo che si sta svolgendo a suo carico ma una volta terminata l'udienza l'imputato è stato trovato a girovagare per la città in un orario non consentito ora dovrà rispondere anche del reato di evasione e al Comune di Campobasso l'opposizione scende in campo per criticare l'operato del governo cittadino dal momento del suo insediamento evidentemente è convocata la stampa da diversi gruppi consigliari Forza Italia, Popolari per l'Italia il servizio ancora di Tonino Danese I consiglieri comunali di Campobasso Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino Popolari per l'Italia e Domenico Esposito capogruppo di Forza Italia si sono presentati in conferenza stampa nella sede dei Popolari con la felpa del Campobasso Calcio impegnato nella conquista della Lega Pro la vecchia Serie C ci siamo candidati sotto colori di partito differente ha detto Esposito ma amministriamo la città sotto gli stessi colori rosso-blu un messaggio per compattare il centrodestra e sostenere la squadra di calcio lo stesso esponente di Forza Italia ha criticato l'operato della maggioranza 5 Stelle soffermandosi sugli ultimi ordini del giorno e mozioni presentate pesanti le accuse all'assessore e alla cultura Paola Felice tacciata di incapacità nell'ultima seduta di consiglio ho portato diversi argomenti mozioni e ordine del giorno che avrebbero potuto incontrare il favore di tutta la consigliatura purtroppo così non è stato sono argomenti di interesse collettivo che si sono colorati di ogni colore politico quindi di nessuno in effetti purtroppo sono state bocciate ma vado avanti con questo principio interesse ho richiesto infatti nei giorni scorsi una commissione congiunta commercio-cultura per dare voce ai commercianti del centro cittadino che dopo nove mesi di questa consigliatura non hanno visto il rilancio di questa zona importante della città e proprio con lo spirito di fare proposte verranno in commissione per farle loro direttamente Colagiovanni ha parlato di assenza di trasparenza e di problemi evidenti della maggioranza e si è soffermato sulla questione polizia municipale penso che al comando vada fatta un restyling sia per quanto riguarda per Vademecum sia per quanto riguarda che l'amministrazione deve dare un supporto in più noi con l'amministrazione di Bartolomeo anche con la Battista mettiamo in campo un concorso facciamo sfilare tutte le graduatorie per assumere più vigili mi auguro che l'amministrazione anche non volendo dare la sospensione votando contro la maggioranza a questa mozione abbia le idee ben chiare dando un comandante rilanciando un corpo che si può chiamare solo tale quando avrà un comandante un assessore che anima e cuore capirà che i vigili urbani sono il veicolo per poter tenere la città sotto contro 365 giorni all'anno la volontà è stato detto dai tre esponenti del centrodestra è quella di fare il punto sull'operato in consiglio ogni mese Carla Fasolino che ha criticato la maggioranza per come è stata affrontata la questione se ha sottolineato l'assenza di dialogo con i 5 Stelle ho avuto delle iniziative con l'amministrazione Battista oggi mi ritrovo invece in situazioni dove non c'è possibilità di dialogo o perlomeno ci sono delle commissioni o dei consigli dove le nostre proposte non vengono considerate o soprattutto non ci viene permesso nemmeno magari a una richiesta di sospensione per dialogare tra di noi per eventuali decisioni da prendere nell'ultimo consiglio si è verificato proprio questo a una nostra richiesta di sospensione hanno addirittura votato contro la sospensione questo significa che vogliono rimarcare la loro maggioranza bulgara e l'amministrazione comunale di Sernia invece ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova piscina l'annuncio è stato dato dall'assessore allo sport Antonella Matticoli il bando per affidare i lavori con ogni probabilità sarà pubblicato entro il mese prossimo per la demolizione e la costruzione del nuovo impianto è stato concesso anche un finanziamento dalla regione di 2 milioni di euro altri 600 mila euro saranno invece stanziati dal comune di Sernia l'obiettivo ha rimarcato Antonella Matticoli è quello di portare a termine i lavori entro un anno e mezzo e nuova vita per le scuole a Sernia abbandonate dopo i terremoti degli ultimi anni sono la San Pietro Celestino che verrà abbattuta e ricostruita della San Giovanni Bosco che sarà adeguata alle ultime normative e dalla Giovanni XXIII che invece si prepara ad ospitare gli studenti dell'università inoltre il comune cerca anche i locali per il nuovo centro per l'impiego il servizio di Enzo Di Gaetano è tempo di lavori pubblici e sistemazione di uffici al comune di Sernia la prima novità è quella relativa alla pubblicazione dell'avviso con cui il comune cerca locali per uffici possibilmente a piano terra per ospitarvi il centro per l'impiego attualmente ubicato alla provincia il comune ha a disposizione 650 mila euro per l'acquisto dei locali che dovranno avere una superficie utile di almeno 400 metri quadri si tratta anche di un'occasione per ridare fiato all'asfittico mercato immobiliare di Sernia altro importante bando è quello dei lavori di riqualificazione della San Pietro Celestino in piazza volta nel centro storico il bando prevede l'abbattimento e la ricostruzione della scuola intervento possibile a seguito del finanziamento di 3 milioni di euro da parte dello Stato l'opera consiste nella demolizione totale dell'edificio esistente nella sua ricostruzione su tre piani di cui uno è interrato in cemento armato e due fuoriterra con strutture portanti in legno è previsto l'utilizzo di materiali eco compatibili gli impianti di generazione di energetica saranno di fonte rinnovabile il terzo bando è quello relativo al recupero funzionale strutturale della scuola elementare materna San Giovanni Bosco di Corso Garibaldi il cui finanziamento di 4 milioni e 700 mila euro è stato ottenuto con decreto del 2017 l'intervento consiste nell'advocamento sismico per le strutture in muratura si interverrà anche con il rifacimento della copertura dell'edificio in legno lamellare e con l'adeguamento igienico sanitario e la realizzazione ex novo di servizi igienici ai vari piani verrà installato anche un ascensore infine la Giovanni XXIII qui lavori di adeguamento già sono stati finanziati e sono addirittura d'arrivo tanto da far sperare nei prossimi mesi nel ritorno a Isernia dell'Università del Molise che potrebbe trovare ospitalità qui per alcuni suoi corsi proprio nell'edificio dell'ex scuola media e le indiscrezioni già parlano di archeologia e dei corsi per docenti di sostegno Eccezionale scoperta a San Martino in Pensilis si tratta di una necropoli che potrebbe risalire anche a 2500 anni fa il ritrovamento delle tombe sono almeno una decina è avvenuto nel corso dei lavori che sono stati avviati al campo sportivo del paese per questo motivo la sovrintendenza ha posto il vincolo dell'area il vincolo archeologico sull'intera area sono in corso altre verifiche per approfondire i reperti rinvenuti nel cantiere il cantiere che è stato chiuso dovrebbe riaprire la prossima settimana è tutto pronto a Larino per questo ultimo fine settimana in cui sarà festeggiato il carnevale appuntamento con la sfilata con gli otto carri allegorici che hanno richiamato in città tantissime persone vediamo Carnevale di Larino ancora due giorni per ammirare otto giganti di cartapesta in movimento che sfileranno lungo le vie del centro frentano dal pomeriggio di sabato 29 febbraio a tutta la giornata di domenica primo marzo un evento premiato anche quest'anno da un ambito riconoscimento arrivato dal ministero per i beni e le attività culturali quello di Carnevale storico d'Italia tecniche sempre più affinate qualità artistiche un impegno totale da parte dei gruppi costruttori che non fanno altro che rinnovare l'invito a partecipare tanti temi delle allegorie che spaziano dall'ambiente al sociale all'attualità impressi nei carri alti diversi metri tra luci colori ed effetti speciali sabato la manifestazione sarà ripresa in diretta facebook e condivisa su instagram anche dallo staff nazionale di Carnevale d'Italia una realtà che segue gli eventi più importanti e caratteristici della penisola e non solo un percorso di promozione e supporto alla sfilata condiviso dall'amministrazione comunale e dall'associazione e dall'arinella che hanno dato impulso a numerose iniziative la sfilata sarà accompagnata da diverse attività dedicate alle famiglie ai bambini musica animazione trucca bimbi clown giocolieri spettacoli di magia area street food e gonfiabili ancora visite guidate al parco archeologico e molto altro gran finale domenica sera con la premiazione del carro vincitore e della migliore coreografia dei gruppi di ballo e delle maschere su queste immagini di festa ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo grazie per averci seguito buon pomeriggio grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito